un bel ritrovato carissimi amici di auto occasioni siamo tutti tornati dalle vacanze belli grintosi e grintosi per venire qui da moto style con enrico foradini ciao enrico ciao elisa e bentornata da noi grazie diamo subito l'indirizzo corso moncenisio 48 a rosta concessionaria da 4000 metri quadri mi dicevi che questo è un mese molto molto importante perché è una puntata dedicata davvero a sconti pazzeschi imperdibili su usato chilometri zero e mezzi aziendali perfetto hai già detto bene ho già detto tutto ma naturalmente enrico c'è molto di più qui da moto style e certo non dimentichiamoci appunto del nuovo 15 marchi ufficiali e la formula no stress quindi sull'usato sul nuovo in collaborazione con reale mutua quindi anche una assicurazione di prestigio nella formula diamo bollo incluso il furto incendio la manutenzione ordinaria la prelazione sull'officina con relativo veicolo sostitutivo in omaggio il recupero della moto in caso di guasto il valore futuro garantito si può restituire per mutare o rifinanziare la moto il pagamento per contanti in caso di restituzione e ancora nel caso non bastasse buoni benzina da spendere li diamo noi per usare la moto siamo come potete vedere anche in compagnia di maurizio e di mario mario che cosa ci dici tu che vi accogliamo qua nel nostro motoplex 2.0 uno dei pochissimi centri in italia dedicati del gruppo piaggio vespa guzzi e aprilia ciao a tutti amici benvenuti e ben ritrovati avete finito le vacanze molto bene avete finito anche i soldi nessun problema da motosegret acquistare le vostre moto senza anticipo con prima rata tre mesi sei mesi otto mesi insomma come volete inoltre questo è il mese delle occasioni quindi vi presenterò adesso alcune moto che stiamo vendendo a dei prezzi folli sulla gamma v4 fino a 3000 euro di vantaggi per rs 660 1000 euro tuono 660 1000 euro tuareg 660 1200 euro visto che adesso dobbiamo andare un po di numeri enrico mi metto gli occhiali e cominciamo partiamo da questa bellissima tuono 125 listino 5099 sconto o super rotazione dell'usato meno 600 euro 4.499 passiamo poi alla tuono 660 factory listino 10.999 euro sconto meno 1200 euro 9.799 euro e ancora questa bellissima rs 660 ovviamente ne abbiamo di tutti i colori ma per questa gialla ultimo pezzo in pronta consegna listino 11.699 euro ben 1400 euro di promozione quindi la portate a casa con 10.499 euro e continuiamo ancora attuare che 660 anche essa disponibile in tutte le colorazioni pronta consegna promo speciale su un'unità di colore acid gold meno 1400 euro 10.599 euro eccoci nello stand kawasaki anche per kawasaki tutte le promozioni sono state rinnovate fino a fine settembre ora mi rimetto gli occhiali perché i marchi aumentano e ricordarsi tutta memoria non è così semplice versi 650 meno 1050 euro sconto super rotazione del vostro usato ninja 1000 sx kit tour e rinno a maggio in alternativa sconto o super rotazione del vostro usato z 900 sulla z 900 rimane sempre la fantastica promozione con meno 1300 euro di sconto volevo farvi vedere volevo parlarvi di questa z 500 che abbiamo sia nella versione base che nella versione se me ne è rimasta una chilometro zero potrà essere vostra con soli 5390 euro e poi ancora z 650 rs ce l'abbiamo in tre colorazioni verde rossa e nera ma ci soffermiamo enrico fammi una bella zoomata su questa z 650 rs di colore verde potrà essere vostra con soli 6350 euro eccoci qua nel reparto fantic fantic xe 125 modello allestimento competition special price 5790 in listino promozione meno 800 euro 5290 euro e poi ancora caballero 500 nella colorazione gialla listino 6890 euro meno 1550 di sconto potrà essere vostro con 5640 euro Enrico visto che questo è il mese delle occasioni ma non solo per il nuovo ma bensì anche per l'usato vorrei farvi vedere queste tre z 900 rs colorazione nera 8550 8100 colorazione brown 7890 7490 colorazione verde 10.590 9990 euro Ciao amici di motostyle amici guzzisti eccoci qua nell'angolo del motoplex 2.0 dedicato a guzzi con che cosa? V85 che potete vedere nella versione TT e nella versione strada che questo mese ha una promozione veramente straordinaria le valigie comprese nel prezzo e non solo venite da noi perché su pochissime unità abbiamo degli sconti speciali dopodiché possiamo passare alla V9 Bobber sia nella versione normale che nella versione special edition può essere vostra con ben 1000 euro di sconto per quel che riguarda la gamma V7 in tutte le sue versioni possiamo ammirare la Corsa edizione speciale di quest'anno così come la TEN o la STONE o la SPECIAL anche questa può essere vostra ma solo pochissime unità con ben 1000 euro di sconto la V100 ecco sulla V100 mandello spendiamo due parole ne abbiamo una versione base e una versione S con le sospensioni elettroniche della Hollins udite udite con ben 2000 euro di sconto ma veramente affrettatevi perché sono solo due veicoli per poi finire alla Stelvio ultima nata della casa guzzi anche lei questo mese nelle sue versioni ha le valigie comprese nel prezzo ed eccoci qua accanto al veicolo che tutto il mondo ci invidia Vespa questo mese primavera 125 150 sprint 125 150 immatricolazione compresa nel prezzo e solo su un numero limitato di Vespe e solo per questo mese può essere vostra con 500 euro di sconto se una pizzeria o una gastronomia hai bisogno di un delivery se un professionista hai bisogno di un mezzo per il pronto intervento MyMover 125 può essere tuo un solo veicolo a 4.600 euro più IVA Per chi vuole un veicolo ideale per la mobilità cittadina e non solo ecco a voi Beverly nella sua gamma quindi sia 300 e 400 noi di Motostyle vi riserviamo un prezzo veramente speciale solo su poche unità possiamo arrivare fino a 800 euro di sconto e di promozione anche su medley 125 150 questo mese immatricolazione compresa nel prezzo ma non solo vi regaliamo anche bauletto e parabrezza ma attenzione dobbiamo targarli a settembre mentre invece Liberty può essere tuo solo 2590 euro più immatricolazione e finiamo con la gamma MP3 che questo mese può essere vostra con uno sconto che può arrivare fino a 1200 euro per cui vi aspetto ciao ed eccoci qua nella zona delle bike che devo essere onesto non tratteremo più perché abbiamo troppe moto da vendere quindi non ce la facciamo più stare dietro a tutto quindi facciamo sconti fino al 50% abbiamo MV Augusta a 1.990 nuova elettrica poi la 1.5 della Fantic a 3.190 la 1.7 a 3.950 la 1.8 a 4.350 e il top di gamma la 2.0 a 4.990 affrettatevi perché qui abbiamo ultime taglie e poi non le terremo più e siamo in casa Fantic con ultimi modelli a chilometri zero con l'XF310 che vedete qua davanti a 9.450 poi abbiamo la 450 quindi XF450 addirittura a 8.450 nuova di pacca e poi la XE300 ultimissimo modello a 9.450 da un listino di 10.390 ecco qui siamo in casa Benelli qua abbiamo ancora un 502 sia bianco che nero a un prezzaccio quindi a 4.750 nuovo e poi un V-Cruise 125 a 4.190 e siamo in casa Suzuki concessionari ufficiali per Torino e provincia abbiamo un GSX-8R aziendale a 8.990 e sempre in casa Suzuki abbiamo questo V-Strom 650 Explorer a 9.190 nuova di pacca e questa Gas Gas nuovissima nuova di pacca da 11.980 la vendiamo a 9.890 allora noi siamo anche storici nel motocross e nell'enduro abbiamo una Kawasaki d'epoca quindi una 2001 poi due Kawasaki 250 Cross recentissime con poche ore una Gas Gas quindi da Prado che vince nella MHGP noi ne abbiamo una usata un Honda già avviamento elettrico in 2017 avviamento elettrico una Fantic quindi Yamaha uguale a Fantic 2023 con pochissime ore Fantic 125 due tempi ancora i mitici due tempi un CRF 250 del 2017 e anche una KTM con 27 ore del 2020 invece nella zona dell'enduro abbiamo anche qui un KTM XC 250 un Beta Xtrainer del 2020 con 2500 chilometri per i ragazzini giovani uno Squarna 125 un altro 125 un Beta RR Racing con 1590 chilometri un KTM HC 125 2022 invece per chi vuole andare un po' più sul tranquillo un Fantic 4 tempi, un Aprilia 4 tempi un 125 di 1 o 2 tempi ma un Derrapage quindi della Vente e poi due SWM 2017 con 1800 chilometri poi addirittura un 2023 nero e giallo da Motostyle vasto assortimento di abbigliamento tecnico per voi giacche, guanti, caschi e molto altro vi aspettiamo inoltre per scoprire tutte le nostre offerte in corso come potete vedere Motostyle è molto di più avete visto con Marica il reparto abbigliamento ma poi tantissimi altri servizi Enrico abbiamo certo il nostro fiore all'occhiello l'officina con otto meccanici, magazziniere eccetera eccetera tutti i servizi di garanzia che qui trovate ma in più abbiamo un fiore all'occhiello che sono ovviamente il parcheggio assistito e poi Fulvia che è la persona dedicata proprio all'accoglienza quindi non manca nulla qui da Motostyle vi invitiamo a venire qui a provare le moto perché è molto importante io ringrazio Enrico ringrazio Mario e ringrazio Maurizio grazie naturalmente a tutti voi ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao